Prima di guardare questo video vi consiglio di leggere la poesia più volte perché è davvero molto bella. La Sera del Dio di Festa è una poesia di Giacome Lopardi composta da Re Canati nel 1820 quando il poeta ha 22 anni. Verrà pubblicata per la prima volta nel 1825. La lirica, composta da 46 endecasillabi sciolti, si apre con l'immagine di Re Canati immersa nella quiete e illuminata dalla luna. Il ritmo è lento e rispecchia la calma e soprattutto l'indifferenza della natura allo stato d'animo irrequieto del poeta. Questo contrasto continua anche nella descrizione del sonno della donna amata che come la natura dorme tranquilla inconsapevole del dolore che ha inflitto al poeta. Quella di Leopardi però non è una semplice tra virgolette sofferenza d'amore, ma ha radici più profonde. Gli è infatti inflitta questa sofferenza dalla antica natura onnipossente, unica responsabile dell'infelicità del genere umano tutto, quindi non soltanto del suo, e che ha negato comunque al poeta anche la speranza di una felicità futura. Leopardi si interroga sul perché di una vita così dolorosa e, oppresso da un insopportabile senso di scoraggiamento, reagisce in maniera violenta e disperata. Questo senso di disperazione si interrompe con l'inaspettata comparsa di uno stimolo uditivo esterno. Si tratta del canto di un artigiano che torna nella sua modesta dimora dopo i sollazzi della festa, cosa che induce al poeta a spostare la riflessione dal piano personale a quello universale. Il canto dell'artigiano infatti richiama alla mente del poeta il suono dei popoli antichi e del grande impero romano. Ed egli si chiede cosa rimanga di quei giorni così gloriosi. La risposta è che semplicemente non ne rimane nulla. Tutto è perduto e di Roma e delle grandi civiltà del passato nessuno parla più. A causa della spietata opera di distruzione e di nullificazione operata dal tempo, che cancella ogni effimera gloria umana. La lirica si chiude con un'ulteriore amara constatazione. Il tempo, che tutto distrugge, dovrebbe però portare anche la maturità e la saggezza, cosa che invece non ha fatto nell'animo del poeta, che rimane inquieto e che ricorda come ai tempi della fanciullezza, alla fine del giorno festivo, quando era nel suo letto, provava infatti lo stesso dolore che prova oggi nel sentire un canto proveniente dall'esterno, un canto che scemava poco a poco. Bene, questo è tutto, spero che il video vi sia utile. Come sempre vi ringrazio davvero tanto per l'attenzione. Alla prossima!